Sfida il futuro accompagneranno 100 giovani in una maratona digitale di 48 ore per elaborare 10 sfide di cambiamento da lanciare alla politica e all'amministrazione della città. Napoli 2030 nascerà l'incontro di un gruppo di giovani che lavorano ogni giorno sui territori per trasformare in meglio la città e porre all'attenzione alcuni temi importanti per la nostra generazione e proporre azioni concrete per confrontarne i problemi. Napoli 2030 nasce con lo scopo di guardare al futuro e costruire i prossimi 10 anni della città, dare voce a una generazione da coinvolgere nelle scelte cittadine, dettare l'agenda politica e mettere al centro del dibattito pubblico i temi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Seguiranno comunicazioni delle prossime iniziative. 100 giovani tra i 16 e i 30 anni riuniti in 10 gruppi di lavoro. Un evento per progettare il futuro di Napoli. Evento digitale che dà parola ai giovani in prima persona. Che cos'è l'Acton? Un evento in cui molte persone collaborano sfidandosi nel cercare di risolvere un problema specifico. L'obiettivo è l'individuazione di ciascun gruppo di una politica pubblica legata alle scelte dell'amministrazione comunale che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'agenda 2030 per la sostenibilità nel corso della prossima consigliatura. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma di azione per le persone, il pianeta, la prosperità sottoscritto dai governi di 193 paesi membri dell'ONU nel settembre 2015. In globa 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Sfida il futuro fa parte della rete internazionale Global Gov Jam che propone eventi di condivisione in diversi paesi del mondo che ruotano intorno al tema di politica e servizi pubblici. Per contatti www.napoli2030.it Su Facebook Napoli 2030 Su Instagram Napoli 2030 Per contatti www.napoli2030.it